Una c'è una cosa, la c'è una cosa... Mi sono dettagli senza posizionarsi... Non c'è una cosa, guarda... Tutto anche da me... Non è proprio... Ma che è una valla... Ma non mi ho parlato di tanta cosa, non mi voglio parlare di tutto questo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Stop requested. No, 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 no. Sì, non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.